www.tachiflu.de 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 Tutti sanno che chi guida dopo aver assunto alcol o droghe diventa un pericolo per se stesso e gli altri. Allora perché ogni anno più di 6.500 incidenti stradali sono causati da alcol e droghe? Perché gli incidenti sono la prima causa di morte per i giovani dai 15 ai 24 anni? Oltre il 90% degli incidenti potrebbe essere evitato con comportamenti prudenti. Non farti guidare da alcol e droghe. Non farlo. Contro il mal di testa da congestione nasale puoi provare Momenixin. Ad ogni mal di testa una risposta mirata. Da Angelini Pharma. Sembra che con esta tè anche l'ultima portata di Natale diventi piacevole. Forse no, ma mica male bere esta tè anche a Natale. Esta tè. Tè best. Per comprendere un mondo che cambia velocemente, ISPI c'è. Analizziamo economia e geopolitica. Elaboriamo scenari per imprese e istituzioni. Lavoriamo con i leader di oggi e formiamo quelli di domani. ISPI, la tua bussola per il mondo. Il mal di gola rischia di rovinare i tuoi piani? Puoi provare tanto un verde gola nebulizzatore. Grazie al suo principio attivo, abbatte il dolore mentre cura l'infiammazione della gola, dando un rapido sollievo. Tanto un verde gola. La vita è bella quando il mal di gola passa. Disponibile anche all'aroma camomilla e miele. Da Angelini Pharma. Viva Rai 2. Torna lunedì 16 gennaio alle 7 e un quarto su Rai 2. Alessia Marcuzzi conduce Boomerissima. Da martedì 10 gennaio, 21 e 20, Rai 2. Non riuscivo ad alzarmi dal letto, l'avevo dimenticato. Era arrabbiata. Il mal di gola è così forte che ti blocca? Puoi provare Flomax con un'azione rapida sulle mucose della gola contro dolore e infiammazione dall'interno. Flomax e il mal di gola può uscire di scena. Dove c'è allegria c'è San Crispino! San Crispino è il nostro vino tutti i giorni sulla nostra tavola. San Crispino, il nostro vino! Bevete responsabilmente. Cucinare come all'aria aperta. Con i sistemi di aspirazione per piano cottura e il forno flessibile Bora. Viaggiare è il modo migliore per conoscere il mondo. Il mio consiglio è di informarvi sempre sul paese che intendete visitare. Consultando per esempio il sito viaggiare sicuri.it dell'unità di crisi della Farnesina. E prima di partire è sempre bene iscriversi su dovessiamonelmondo.it così in caso di emergenza sapranno dove siete. I mal di testa non sono tutti uguali. Per il solito mal di testa puoi provare Moment 200 e quando è forte Moment Act. Se il tuo mal di testa è da cervicale, Moment All. Quando compare insieme al ciclo, Moment Act Analgesico. Contro il mal di testa da congestione nasale puoi provare Moment X-In. Ad ogni mal di testa una risposta mirata. Da Angelini Pharma. E... azione! Per il momento tutto ok. Poi chissà. The Voice Senna. Prossimamente. Rai 1. La leggerezza è nella nostra natura. Lauretana. L'acqua più leggera d'Europa. Consigliata a chi si vuole bene. Sintomi del raffreddore e dell'influenza? Tachiflu. TASC. A portata di TASC. Pronto da prendere. Pronto da agire. Combatte i sintomi e decongestiona le vienesali. Tachiflu. TASC. E la giornata continua. E quando puoi concederti una calda cura. Tachiflu. DEC. Ah. In... affidabile. In... desiderato. Hai momenti perfettamente in... Perfetti. Rocca dei Forti. Star bene insieme. Signorina Suini, salve! Oh!